Ormai è una consuetudine che tutti gli anni vengono fatte quattro iniziative con l'intento di territorializzare questo evento che vuole essere soprattutto occasione per rilevare tutte quelle che sono le patologie a livello di salute mentale. Non ci dimentichiamo che solo qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale della salute mentale, quindi diciamo che è un problema avvertito, sentito. Patologie che sono anche cresciute dopo il Covid. Sì, sono anche cresciute, ma c'è da dire che già nel 2015 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva previsto che ci sarebbero state due patologie invalidanti nel 2020, le malattie cardiovascolari e la depressione. Sono state individuate come le situazioni, le difficoltà più perniciose, insomma. Cosa crede è il programma di quest'anno? Quali sono gli appuntamenti più importanti? Beh, ci sono vari momenti, ci sono dei colleghi che io posso parlare del mio intervento, io mi occuperò dell'eccellenza docente per gestire meglio le emozioni. Oggi noi abbiamo visto anche, è attualissimo questo discorso perché abbiamo visto che il governo che si è appena costituito ha varato un ministero dell'istruzione del merito. Ecco, io personalmente vorrei capirci di più e approfondire questo particolare del merito. È una condizione che sicuramente va sottolineata in tutti gli aspetti. Grazie a tutti.